Buonasera a tutti voi, benvenuti a questo ennesimo appuntamento del Festival della Scienza e della Filosofia della Città di Foligno. Io sono Marco Damiani, mi presento molto velocemente, sono ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia e stasera tocca a me il compito, l'onere e l'onore di presentare il nostro ospite. Paolo Flores d'Arcais, diciamo che è un ospite ricorrente nel programma della Festa della Scienza e della Filosofia di Foligno ed è un ospite ricorrente perché la sua capacità di analisi, la capacità di lettura critica del professor d'Arcais sono certamente qualità particolarmente preziose per cercare di comprendere in maniera più approfondita i processi di trasformazione politica e culturale che stanno caratterizzando questa complessa e da studioso lasciatemi dire anche particolarmente interessante fase storica di transizione. Ringrazio quindi e ringraziamo il professor d'Arcais per la sua disponibilità e per aver accettato il nostro invito. Paolo Flores d'Arcais, diciamo così, come si dice in questi casi, è un personaggio particolarmente importante ha una storia densa, ha un curriculum di quelli importanti e a me stasera aspetta il compito semplicemente di presentarlo richiamerò alcuni passaggi della sua vita biografica mi limiterò a fare alcuni scenni velocissimi per introdurre il tema oggetto di discussione poi ovviamente passerò la parola al nostro ospite per stare ad ascoltarlo insieme a voi finita la lezio magistralis di Paolo Flores d'Arcais riprenderò la parola e nel tempo che ci resta cercheremo di organizzare le domande che certamente alcuni di voi vorranno rivolgere al nostro ospite in relazione ovviamente al tema oggetto di discussione vengo però a presentare davvero in maniera molto veloce il nostro ospite chi è Paolo Flores d'Arcais, ovviamente ben conosciuto ma richiamo alcuni passaggi della sua biografia intanto Paolo Flores d'Arcais è un importante intellettuale italiano è un filosofo, un pubblicista, collabora con numerose riviste giornalistiche nazionali e internazionali ma soprattutto la gran parte di noi lo conosciamo come fondatore e direttore di una importante rivista italiana, Micromega che è una rivista che si occupa di politica e di cultura politica fondata in Italia nel 1986 per il gruppo editoriale L'Espresso Micromega sin dalla sua prima edizione diciamo che mostrava perché ora è cambiato il sottotitolo ma mostrava un sottotitolo che indicava le ragioni della sinistra oggi se non sbaglio, mi corregga direttore, dovrebbe essere tipo un insieme per la sinistra illuminista per una sinistra illuminista e il sottotitolo della rivista richiama ovviamente un'appartenenza politico-culturale ad una vasta area della sinistra italiana mantenendo però sempre un livello elevato, livello di autonomia, di critica politica che distingue la rivista e che, lo dico fuori da ogni formalismo, rende Micromega una delle più colte, delle più interessanti riviste italiane di politica. Il carattere di indipendenza e di spirito critico di Micromega è esattamente, appartiene esattamente il carattere libero e indipendente anche del suo direttore. Partirò un po' da lontano ma arriverò immediatamente all'attualità nel presentare i passaggi più importanti della sua vita. Nel 1963 Paolo Floris d'Arcais è un giovanissimo ragazzo che insieme a molti ragazzi della sua generazione politica comincia a serbare un desiderio, che è il desiderio di voler cambiare il mondo. E insieme a molti ragazzi giovani della sua generazione politica, dicevo, nel 1963 si iscrive a quella che allora era la FIGC, la federazione giovanile dell'allora Partito Comunista Italiano, ma nella FIGC Flores d'Arcais resterà soltanto quattro anni perché nel 1967 verrà espulso dalla FIGC perché aveva pubblicamente mostrato le sue simpatie politiche per un'area politico-culturale che allora faceva riferimento alla quarta internazionale troschista. Vedo molti giovani in sala, i tempi che correvano a metà degli anni Sessanta sono molto diversi rispetto a quelli che corrono oggi. Tuttavia questa uscita, tra virgolette, traumatica dalla FIGC non incide negativamente nella traiettoria politica di Paolo Floris d'Arcais, anzi, l'anno successivo, il 1968, anno di cui quest'anno ricordiamo il cinquantesimo anniversario, Paolo Floris d'Arcais negli ambienti romani, ma per la verità non soltanto negli ambienti romani, emerge come uno dei giovani leader del movimento studentesco. E in continuità con il percorso di militanza politica, dal lato intellettuale, nella fase giovanile della sua vita anagrafica, Flores d'Arcais cresce dentro una corrente di pensiero vicina al marxismo eretico di Della Volpe e di Lucio Coletti, di cui fu allievo diretto, e su questa linea, intorno alla metà degli anni Settanta, si schiera con la sinistra libertaria di Albert Camus e di Anne Arendt. Un anno importante nella biografia politica e intellettuale di Paolo Floris d'Arcais è il 1978, anche un po' un anno di passaggio rispetto alla sua vita pubblica. Nel 1978, seppur senza mai iscriversi al Partito Socialista Italiano, accetta di dirigere quello che allora era un importante, prestigioso, storico centro culturale mondo operaio. Dirige il mondo operaio fino ai primi anni Ottanta, quando pubblicamente, mantenendo ancora una volta lo spirito libero che caratterizza e che caratterizzerà la storia politica, intellettuale e personale di Paolo Floris d'Arcais, dicevo fino a quando, intorno ai primi anni Ottanta, critica pubblicamente l'ingresso del Partito Socialista nella formazione dei governi nazionali di allora, questa critica non deve essere piaciuta molto ai dirigenti dell'allora Partito Socialista che pensano bene di allontanarlo, credo che fosse in 1981, dalla direzione Ottanta, dalla direzione di Mondo Operaio. Come dicevo e anticipavo prima, la vita del professor d'Arcais è molto densa, faccio un salto di una ventina d'anni per arrivare ai giorni d'oggi e agli eventi che ci ricordiamo in maniera più lucida. Vengo ai primissimi anni 2000, correva l'anno 2002, come si suol dire in questi casi, quando insieme a Nanni Moretti e a Pancio Pardi, Paolo Floris d'Arcais è tra i principali animatori della stagione dei girotondi. Vi ricorderete, organizzati in forte polemica con la classe politica dirigente di allora e vi ricorderete almeno la famosa frase morettiana, la citazione è d'aprile, il film D'Alema, di qualcosa di sinistra, o quantomeno D'Alema, di qualcosa, reagisci, fai qualcosa, perché quello che i movimenti dei girotondi e i suoi principali dirigenti imputavano, accusavano i dirigenti del centro-sinistra di allora era quella di aver rotto, tanto per citare Gramsci, quella connessione sentimentale con il proprio popolo di riferimento. Devo dire che la sinistra italiana, a partire dai primi anni 2000, ha avviato un percorso e una trasformazione che nonostante l'impegno del movimento dei girotondi ha preso tutt'altra direzione di marcia, ma questa è un'altra storia e in questa storia ovviamente questa sera non vogliamo entrare. Torno velocemente al nostro ospite per dire dunque, da queste mie primissime battute, e poi gli passerò la parola, che il suo impegno politico mostra sempre ampie zone di sovrapposizione con l'impegno e con il lavoro intellettuale. Chiudo dicendo che Paolo Flores d'Arcais è anche stato un docente universitario, è autore di numerosi saggi, di numerosi volumi e testi a stampa, ed oggi però lo abbiamo chiamato per parlare e per presentare una relazione dal titolo Etica e futuro della rivolta. Due termini particolarmente complessi, io non ci voglio entrare dentro, lascio direttamente la parola al professor Paolo Flores d'Arcais, prima ovviamente di aver rinnovato i nostri ringraziamenti, e gli do volentieri la parola. Grazie. Come suggerito dal professor d'Arcais, per chi è in fondo, nelle prime file ci sono ancora posti liberi, quindi se vi volete accomodare trovate qualche posto qui davanti. Grazie. 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 al professor Damiani perché, anziché una presentazione, mi ha fatto un lungo di tirambo e quindi lo ringrazio in modo particolare, e soprattutto il festival di Foligno e l'amico Mingarelli che mi invita da tutti gli anni. Etica e futuro della rivolta. Thomas Jefferson, che è insieme a George Washington la principale personalità della rivoluzione americana, Washington è la figura centrale dal punto di vista militare, Jefferson dal punto di vista politico, e sarà Jefferson a scrivere la famosa dichiarazione di indipendenza, scrive Dio non voglia che si debba mai restare vent'anni senza una rivolta. Quale paese può mantenere le sue libertà se i governanti non vengono avvertiti di tanto in tanto che il loro popolo conserva lo spirito di resistenza? E qualche settimana prima, sullo stesso tema, aveva scritto lo spirito di resistenza contro il governo è in certe occasioni di tale valore che spero verrà sempre mantenuto vivo. Spesso sarà esercitato in modo sbagliato, ma meglio così piuttosto che non venga esercitato affatto. Mi piace una piccola insurrezione ogni tanto, è come una tempesta per l'atmosfera. Lo diceva a rivoluzione già avvenuta e continuerà a ribadire il concetto con altre parole fino alla fine della sua esistenza, che lo vedrà due volte presidente degli Stati Uniti. Sulla base di un'esistenza per cui sapeva che la democrazia è il più fragile degli ordinamenti, perché si regge solo su se stesso. È come quel personaggio che si teneva sospeso per aria per il proprio codino, per il proprio pastrano. Perché non c'è un fondamento di legittimità come in tutti i regimi precedenti, fondato su Dio, sulla tradizione. è basato solo sul suffraggio popolare, che può degenerare facilmente, che può essere facilmente manipolabile. proprio perché la sua unica manipolazione è il consenso e molte volte nella storia, già a partire da una fase della rivoluzione francese, il consenso può dar luogo a forme anche sanguinose attraverso la democrazia, a forme sanguinose di non democrazia, si è sviluppata tutta una tendenza a cercare di realizzare dei meccanismi che impediscano la degenerazione della democrazia, che non è però solo la degenerazione totalitaria. Per questo Jefferson si batterà perché oltre alla Costituzione, come preambolo, vi sia una carta dei diritti di libertà su qualche cosa di intangibile rispetto a qualsiasi maggioranza e insisterà fino all'ultimo, di fronte a rivoluzioni che avvenivano nel Sud America, a sottolineare come il suffraggio popolare se si esprime in un clima di ignoranza e bigottismo può diventare la peggiore delle tirannidi. L'idea di Jefferson è quindi che la democrazia deve in sostanza essere due cose in apparenza paradossali un'aristocrazia estesa a tutti e una comunità di dissidenti. Una aristocrazia estesa a tutti perché tutti devono poter godere dei privilegi di quelli che un tempo erano privilegi e che vedremo, continueranno però poi a esserlo anche nelle forme democratiche. i privilegi dal punto di vista dell'educazione, del benessere, dell'agio per riflettere e per decidere, del tempo per occuparsi di politica, perché se non sono tutti i cittadini a poter godere di questi privilegi è quasi inevitabile che all'interno della democrazia si formino subito nuove aristocrazie. Del resto, a quest'idea che la democrazia è i privilegi dell'aristocrazia estesi a tutti si arriva anche partendo dal concetto minimo, ma davvero minimo, di democrazia. La democrazia è uno di quei concetti che ha dato luogo alle lotte più violente, alle polemiche più violente, alle pretese più diverse. Che cosa è democrazia vera e che cosa è una democrazia finta. Ma tutti i teorici della democrazia su una cosa non possono non essere d'accordo. Che senza un requisito minimo che è il requisito poi che nasce dal giuramento della pallacorda durante la rivoluzione francese. Che una testa, un voto ciascun potremmo dire oggi con un'affermazione che uno vale uno senza una testa, un voto non ci può essere democrazia. Ma se prendiamo sul serio questa definizione veramente minimalistica di democrazia ci rendiamo conto che esige una quantità di elementi sostantivi che a prima vista non si notano. Perché una testa, un voto significa ovviamente anche un voto dato con la propria testa altrimenti non è un voto autonomo. E un voto non è autonomo quindi non è libero se è costretto o condizionato dalla violenza dall'intimidazione dalla minaccia dal ricatto del posto del lavoro o della povertà dalla disinformazione dalla superstizione quello che diceva prima del bigottismo Jefferson dalle varie forme della paura per ciascuna di queste elementi che distruggono dall'interno il voto eguale si potrebbero fare una quantità di esempi pensate per la disinformazione molti anni fa ormai un presidente della Repubblica un presidente degli Stati Uniti fu eletto benché nel suo programma ci fosse la guerra in Iraq sulla base del fatto che si era diffusa la notizia che l'Iraq possedeva armi di distruzione di massa quella notizia era falsa se i cittadini americani avessero saputo che non c'era nessuna arma di distruzione di massa un candidato avverso che non voleva l'impegno in guerra avrebbe vinto questo per fare uno dei tantissimi esempi ma pensate che cos'è il voto in una situazione in cui pesi la mafia oggi c'era la statistica di quanti comuni in Italia sono stati sciolti per mafia cioè i consigli comunali eletti col voto a suffraggio universale sono stati sciolti perché quel voto nasceva dalla paura della mafia e si potrebbe continuare perciò l'eguaglianza deve essere un'eguaglianza sostanziale fra cittadini proprio perché non sia una pura frase l'affermazione una testa un voto del resto questa cosa che ci vuole anche agio avere il tempo avere la testa per pensare alla politica e non per dover mettere insieme ogni giorno a fatica il pasto con la cena lo sapevano anche i liberali classici che erano contrari al suffraggio universale ed erano contrari al suffraggio universale perché appunto dicevano che un voto non può essere davvero libero e autonomo se una persona non ha la cultura sufficiente non ha uno stato di vita che gli permetta di informarsi di dedicare tempo di fare confronto critico con gli altri di non essere assillato dal bisogno ora da questa analisi assolutamente condivisibile si possono però trarre due conseguenze del tutto opposte che solo coloro che hanno questi privilegi avranno anche il diritto di voto oppure che si tratta di estendere questi privilegi a tutti attraverso una politica di eguaglianza sostantiva culturale economica e sociale la democrazia è questa si impegna in questa seconda direzione aspettando di vedere alcune altre conseguenze molto esigenti di questa impostazione perché la democrazia è poi una comunità di dissidenti noi abbiamo bisogno di far parte di una comunità abbiamo bisogno di sentirci insieme agli altri e in mezzo agli altri la solitudine è la più mostruosa delle condanne e del resto già nella Bibbia nel famoso libro Icolet c'è scritto che guai ai soli perché la solitudine è la più violenta delle condanne quindi la democrazia ha bisogno di consentire a ciascuno di noi di sentirsi parte di una comunità al tempo stesso la democrazia è incompatibile con una forma di comunità che dia luogo al conformismo e allo spirito gregario che è appunto il contrario di quello spirito autonomo in cui si sceglie a ragion veduta e si esercita così la propria capacità di cittadinanza il cittadino che segue come un gregario come un pecorone non è un cittadino il cittadino implica la capacità critica di ciascuno di ciascuno di noi per cui credo che si possa valutare anche il tasso di democrazia di ogni reggimento politico che si definisce tale anche con un indicatore che invece non viene mai utilizzato dai politologi e dalla scienza politica il tasso di democrazia è l'opposto del tasso di conformismo che c'è in un paese quanto più conformismo c'è in un paese tanta meno democrazia effettiva c'è ecco perché è fondamentale che la democrazia la cittadinanza sia una comunità di eguali ma una comodità e una comunità di dissidenti ciascuno dissidente all'altro nel senso della capacità di essere costantemente critici Rousseau come tutti sanno diceva che solo un popolo di dei può effettivamente governarsi attraverso la democrazia senza entrare nel merito di questa voluta esagerazione polemica però certamente la democrazia esige in qualche modo un popolo di illuministi di persone che mettono il senso critico come qualcosa di irrinunciabile del proprio essere ovviamente tutte le esigenze che ho appena toccato di che cosa implica la democrazia minima di una testa a un voto e cioè i privilegi che un tempo erano del senso che devono essere privilegi di cultura per tutti ma non solo fare le scuole poter continuare con l'educazione permanente lungo tutta la vita e quindi avere gli strumenti il tempo i mezzi avere l'agio quindi un benessere diffuso quello che si dovrebbe chiamare un welfare molto spinto che invece da alcuni decenni viene sempre più ridotto tutte queste cose ovviamente vanno intese come un'approssimazione che non può essere data immediatamente un'approssimazione che tende al limite come si dice in geometria un'approssimazione asintotica cioè un'approssimazione che deve sempre più avvicinarsi all'ideale mai sentirsi soddisfatto delle tappe intermedie anche perché se non si avvicina costantemente all'ideale impegnativo della democrazia uguale e sostantiva fra i cittadini le conquiste poi si perdono perciò io penso che l'unica definizione vera di democrazia sia che la democrazia è una costante lotta per la democrazia una costante lotta per arrivare a un'eguaglianza sempre più sostanziale fra tutti i cittadini l'eguaglianza non solo l'eguaglianza giuridica e formale ma l'eguaglianza in tutti i suoi aspetti è intrinseca alla democrazia e deve essere perseguita costantemente in modo asintotico del resto se ci pensate nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti c'è un passaggio famoso in cui si sostiene che fra i diritti naturali cioè fra i diritti civili che non possono essere messi in discussione fra i diritti imprescrittibili del cittadino c'è l'eguale diritto al perseguimento della felicità e felicità implica autonomia perché per ciascuno di noi la felicità è una cosa diversa ma implica ovviamente avere tutti i mezzi gli strumenti sociali di reddito culturali per poterla perseguire la nostra felicità il cui unico limite è che non sia a danno della felicità di altri ora diceva Jefferson ci vorrebbe una bella rivolta una bella insurrezione ogni vent'anni in occidente una rivolta manca ormai da mezzo secolo vi sono stati tanti episodi anche importanti anche recenti quando ci furono le manifestazioni contro Wall Street negli Stati Uniti quando vi furono manifestazioni degli indignados in Spagna da cui indignados da cui nacque poi Podemos ma una vera rivolta dal 68 in poi non c'è mai più stata il 68 non solo è stata l'ultima rivolta ma è particolarmente significativa perché è stata la rivolta che veniva a vent'anni grosso modo 22 23 dalla fine della guerra che erano stati anni in cui partendo da una povertà estrema estrema perché chi qui ha l'età io ero bambino era appena nato sono nato durante la guerra chi avesse 5 10 anni di più di me si ricorderebbe quello che io invece ho vissuto senza saperlo ma non si trovava lo zucchero non si trovava il latte non si trovavano delle cose elementari si viveva in un'indigenza estrema io ho ricordo quando avevo tre anni la prima casa dove ho abitato a Roma era eravamo già tre figli un grande stanzone diviso con dei tre mezzi in cui c'erano delle coperte appese a dei fili e questa era un'unica stanza divisa in tre uno per mio padre e mia madre uno per i figli e uno per la cucina a gas che era una piccola cucina a gas con la bombola con un lavandino e io credo di essere stato comunque in quel periodo già un privilegiato rispetto alla media e il primo ventennio del topoguerra è un ventennio non solo in Italia in tutta Europa di ricostruzione e di crescita costante di passaggio costante dalla povertà estrema a un sempre maggiore non direi benessere ma a uno stato sempre più di vita normale oltre la sopravvivenza e poi di una speranza crescente quasi certa di un miglioramento costante per cui quando noi sui vent'anni facciamo il sessantotto siamo una generazione privilegiata una generazione che sa che nella sua vita non vedrà altre guerre una generazione che non conosce ha conosciuto al massimo solo da bambino la povertà dei propri genitori poi ha conosciuto sempre ogni giorno qualcosa di più da tutti i punti di vista del cibo dei vestiti dell'alloggio dell'istruzione ecco perché molti in questo cinquantenario del sessantotto hanno anche accusato la generazione che ha fatto il sessantotto di essere una generazione di ragazzi viziati incapaci di essere riconoscenti verso un sistema che stava dando a loro qualcosa che i loro genitori non avevano avuto ma non erano affatto ragazzi viziati erano ragazzi che prendevano sul serio quello che è scritto nelle costituzioni la nostra costituzione nata appunto dalla sconfitta del fascismo cioè dalla vittoria della resistenza e degli alleati è una costituzione che esprime attraverso tanti dei suoi articoli in modo articolato e più ampio quel concetto di diritto al perseguimento della felicità che quasi due secoli prima era stato enunciato da Jefferson quindi non è una generazione che aveva troppo e voleva ancora di più è una generazione che prendeva sul serio il fatto che la nostra costituzione dice che bisogna rimuovere giorno dopo giorno tutto ciò che impedisce l'effettiva eguaglianza tra i cittadini in ambito sociale culturale economico eccetera era la generazione di chi ha preso sul serio la democrazia giustamente non accontentandosi di quello che veniva passata per democrazia e pretendendo che la democrazia rispettasse se stessa e realizzasse i suoi principi 68 in sostanza è stata la rivolta della coerenza democratica anche se in larga parte inconsapevole di se stessa perché ha coperto questo slancio di coerenza democratica con delle ideologie che erano già superate che erano vissute talvolta in modo estremamente dogmatico e però certamente c'era questa necessità libertaria e egualitaria nella spinta del 68 che non ha nulla a che fare con il rifiuto della autorevolezza in vari campi quando io ho letto in occasione di recenti polemiche quando alcuni professori vengono sbeffeggiati o peggio dagli alunni c'è stato un caso in cui un professore è stato preso a testate da uno studente che però prima di dargli le testate si era messo il casco mi domando perché semplicemente in questi casi questi ragazzi non finiscono a riformatori e si discute se espellerli o no se fargli ripetere l'anno ma si è sentito anche qualche giornale reazionario dire ecco le conseguenze del 68 di 50 anni di permissivismo ora il 68 non ha nulla a che fare con questo ha a che fare con il rifiuto dell'autoritarismo non della autorevolezza del sapere io ricordo che a Roma il 66 fu l'anno delle prime occupazioni fu il preambolo del 68 e fu definita l'occupazione del 66 a cui io partecipai l'occupazione dei 30 e lode perché tutti coloro che animavano quell'occupazione avevano i libretti tutti di 30 e 30 e lode non è affatto vero che il movimento del 68 è stato il movimento di chi non voleva più studiare è stato il movimento pieno di contraddizioni poi certamente di chi voleva che tutti avessero le stesse possibilità di studiare e di emergere e quindi il rifiuto di un'università che ancora era stratificata in modo classista è stato un movimento movimento in cui ci si sentiva sicuramente parte di un'entità collettiva ecco l'appartenenza di cui ciascuno di noi ha bisogno essere parte di una comunità da questo punto di vista per chi l'ha vissuto è stato un anno indimenticabile e irripetibile perché ciascuno di noi non solo non si sentiva mai solo ma non riusciva neanche a concepire cosa potesse significare essere soli perché ogni giorno si sapeva che c'erano decine e decine di migliaia di persone con cui stavamo insieme facevamo insieme qualcosa condividevamo insieme degli ideali e delle lotte e si scendeva quando si scendeva in piazza insieme era come oggi qual è il tuo gruppo di riferimento per un giovane i suoi amici i suoi alcune decine di persone con cui si va a una festa la festa per noi il nostro giro era fatto delle decine di migliaia di persone con cui ci si poteva ritrovare ogni giorno e con cui si poteva scambiare immediatamente come nella conoscenza di una festa tutto e rimanendo individui esercitando ciascuno poi la sua capacità critica e la sua individualità oggi tutto questo è scomparso rapidamente dall'orizzonte il 68 ha dissipato le sue potenzialità per i suoi errori non solo ideologici perché non ha mai voluto utilizzare la forza che aveva accumulato in Italia ma in Francia col maggio francese perfino di più ha dissipato questa forza anziché utilizzarla per imporre delle riforme radicali il 68 è stato come obnubilato dal timore di essere come si diceva recuperato di essere ammorbidito di essere addomesticato attraverso le riforme e in questo modo non ha utilizzato la forza che aveva accumulato manifestando ogni giorno e occupando le facoltà per ottenere davvero qualcosa non ha saputo esercitare il potere reale che aveva perché è stato paralizzato dall'idea che utilizzandolo il mezzo avrebbe negato il fine la questione dei fini e dei mezzi è una delle questioni più delicate della rivolta mai risolta in realtà perché quasi tutte le rivolte quasi sempre hanno dato vita all'eterogenesi dei fini cioè a dei risultati che spesso sono stati opposti rispetto alle intenzioni dei protagonisti un uomo della rivolta come Albert Camus scriverà il fine giustifica i mezzi può darsi ma cosa giustificherà il fine la rivolta risponde i mezzi ecco sapere che è attraverso i mezzi cioè l'azione che si compie che già si sta realizzando un fine e che non si deve realizzarlo in vista di qualcos'altro che non si devono utilizzare mezzi non democratici per ottenere fini democratici ma altresì che bisogna avere il coraggio di utilizzare tutti i mezzi democratici di un movimento per avere maggiore democrazia tutto questo il 68 non ha saputo farlo e suo malgrado però ha avuto un'onda lunga di riforme che senza il 68 non sarebbero mai avvenute in questo paese incominciando dai due grandi momenti di battaglie per i diritti civili il divorzio e l'aborto che erano da anni la lotta di piccoli gruppi di radicali e di laici ma che mai senza la grande ondata del 68 sarebbero diventati quei vertiginosi movimenti di massa di opinione che contro ogni aspettativa della chiesa che aveva imposto la pretesa del referendum avrebbero dato luogo alle schiaccianti vittorie nei due referendum ma c'è stata un'onda lunga che ha coinvolto tutti gli aspetti della società civile i giornali nel 68 erano qualcosa di incomparabile rispetto ai giornali di oggi o comunque di un recente ieri la parte il notiziario politico dei giornali veniva fatto attraverso le veline per i giovani ma anche per i quarantenni le veline sono due ragazze in genere molto carine e molto discinte che ballano in una famosa che sgambettano in una famosa trasmissione televisiva ma le veline erano invece la versione ufficiale del ministero degli interni e delle questure su ciò che era avvenuto nel paese che venivano mandate a tutte le redazioni dei giornali si chiamavano veline perché all'epoca non c'erano i computer e quindi si batteva una macchina in tante copie su carta velina in modo da poter fare più copie insieme e i giornali riportavano fedelmente in realtà la velina della questura del ministero degli interni questa era la totale sudditanza della stampa dell'epoca al potere mentre la stampa per sua natura dovrebbe essere un contropotere rispetto agli altri poteri dovrebbe essere il potere di opinione dei cittadini dovrebbe essere lo strumento il difensore civico dei cittadini contro gli altri establishment di potere ma ci sono state trasformazioni straordinarie nel servizio sanitario negli ospedali psichiatrici nell'esercito nella polizia un sindacato di polizia sarebbe stato inimmaginabile all'epoca in tutti nella chiesa nella chiesa si sviluppò un movimento che diede poi vita ai cristiani di base a un'infinità di comunità che sarebbe stato inimmaginabile questa onda lunga purtroppo da lungo tempo ormai si è esaurita eppure fino a meno di vent'anni fa c'era ancora perché sono stati richiamati i girotondi i girotondi furono un anno di manifestazioni incredibili perché in sostanza auto-organizzati dai cittadini come ha ricordato prima il mio super gentile introduttore quella manifestazione l'abbiamo organizzata a casa mia dal 15 agosto al 14 settembre sostanzialmente in 3-4 persone Nanni Moretti Pancio Pardi io e Olivia Sleiter che è stata che faceva di mestiere la produzione esecutiva nei film e che è stata la vera anima organizzatrice ma come voi capite bene quattro persone non possono riuscire a organizzare svariate centinaia di migliaia di persone che si trasferiscono a Roma pagando con i propri mezzi e addirittura versano nel loro insieme una cifra per l'epoca stratosferica per pagare il palco e tutte le altre cose che in genere sono analoghe a quelle di un concerto rock in sostanza tranne cioè delle cifre altissime tutta questa cosa è avvenuta perché noi abbiamo semplicemente fatto da catalizzatori a una volontà di rivolta che c'era nel paese e che ha dato luogo alla manifestazione di massa più grande che ci sia stata tranne nell'intero dopoguerra tranne quello che ci fu in quello stesso anno organizzato dalla CGL di Cofferati al Circo Massi eppure perché quella enorme spinta quella capacità di auto-organizzazione perché da ogni città da ogni piccolo centro utilizzando per la prima volta internet le persone si mettevano in contatto e si organizzavano il loro pullman a Torino una persona era talmente convinta di questo moto di volontà di partecipazione che c'era che ha affittato a sue spese un intero treno speciale dovendo pagare in anticipo alcuni milioni e si è trovata ad avere poi più prenotazioni dei posti cioè c'è stato uno slancio incredibile che aspettava solo che qualcuno gli desse una forma di permanenza un'organizzazione molto diversa dalle tradizionali ma che non lasciasse che anche questo enorme slancio di rivolta si dissipasse una volta di più io credo che abbiamo fatto io per primo siamo colpevoli di non aver tentato di dare quella struttura organizzativa benché da inventare in forma nuova non certo quella dei vecchi partiti non l'abbiamo fatto per tante ragioni anche di ordine personale che però non sono una giustificazione e non averlo fatto ha condizionato pesantemente i 15 anni successivi perché se fosse stato fatto i successivi il successivo scontento la rabbia la volontà di farla finita con un establishment sempre più insopportabile sempre più corrotto non avrebbe avuto bisogno di trovare la struttura di un'unica persona a cui va riconosciuto l'intuizione di aver detto ormai tutti i partiti sono irriformabili avremmo potuto dirlo noi con dieci anni d'anticipo e molte cose sarebbero cambiate ecco perché io credo che sia importante capire che il momento cruciale di una rivolta è quello in cui la rivolta deve mettersi a frutto perché se non si mette a frutto oltretutto rende più difficile quella piccola rivolta ogni vent'anni che è necessaria per far capire ai governanti che non possono fare il comodo loro e che quindi i cittadini sono pronti di nuovo a dire no la democrazia fin dalle origini è in realtà stata uno scontro non è vero che si è conquistata la democrazia la democrazia è una lotta permanente per realizzare la democrazia tant'è vero che perennemente fin dall'inizio all'interno della forma democratica si sono sempre in varia forma ripresentati i due grandi partiti il partito del privilegio e il partito della coerenza cioè dell'eguaglianza e il partito del privilegio molto spesso ha saputo manipolare i consensi e quando si è trattato di fare delle scelte nette quando sembrava che la forza della spinta all'eguaglianza crescesse troppo il partito del privilegio non ha avuto alcun dubbio nell'affossare anche le forme della democrazia pur di salvare i propri profitti i fascismi sono stati un secolo fa esattamente questo ora bisogna aver chiaro che i fascismi sono riusciti perché erano riusciti a conquistare le masse in sostanza Mussolini e Hitler certamente attraverso molti episodi di violenza e di intimidazione ma sono andati al potere per via elettorale Hitler soprattutto ha stravinto delle elezioni bisogna allora aver chiaro che la lotta per la democrazia non può affidarsi semplicemente a quello che si è conquistato una volta proprio perché se non si mantengono vivi tutti gli aspetti della democrazia cioè uno spirito critico diffuso fra i cittadini maggioritario fra i cittadini e una volontà di eguaglianza inesausta fra i cittadini le masse possono essere addomesticate e utilizzate per creare nuovo privilegio è stato così fin dalla rivoluzione francese la Vandea è stato un moto popolare antirivoluzionario durante il risorgimento le truppe del cardinal Ruffo contro i patrioti risorgimentali il famoso episodio della spigolatrice di Sapri erano masse di contadini affamati utilizzati dalla reazione e dal privilegio ora che futuro può avere la rivolta le rivolte non si programmano le rivolte nascono date condizioni pressoché identiche o comunque fortemente analoghe in certi momenti la rivolta esplode in altri non succede nulla rispetto alla rivolta se ne può preparare l'habitat cioè ciascuno con le proprie capacità con i propri strumenti può cercare di rendere l'habitat sociale e culturale fertile per la possibilità di rivolta una volta che una scintilla scoccasse preparare l'habitat per la rivolta sapendo che il momento della rivolta è come il famoso kairos di cui parlavano i greci l'attimo che va colto ma che non possiamo prevedere cioè mantenere viva attraverso tutti gli strumenti che ciascuno di noi ha l'indignazione l'intransigenza la consapevolezza che attraverso i movimenti sociali il volontariato le forme dal basso non sono sufficienti a far scatenare una rivolta e meno che mai a farla affermare che oltre a mantenere vivo lo stato d'animo della dell'indignazione dell'indignazione contro ogni ingiustizia e contro ogni manipolazione e mai quindi accontentarsi perché domani potrebbe essere peggio se si rischia qualcosa bisogna anche sapere che bisogna cercare di immaginare le forme organizzative attraverso cui dare continuità a una rivolta una volta che accadesse e non solo forme organizzative che nella loro strumentazione nei mezzi non possono non devono contraddire i fini ma al tempo stesso cominciare già da ora a organizzare almeno le élite di una possibile rivolta perché le rivolte non avvengono senza élite si dice sempre nascono dal basso dal basso può nascere un moto di protesta immediato per qualche cosa dal basso nascevano le jacquerie dei contadini affamati che poi però non portavano a nulla si bruciava un castello e poi c'era la repressione la rivolta esige un humus fatto anche di preparazione delle élite consapevoli della rivolta ecco io credo che parlare realisticamente del futuro della rivolta significa riconoscere tutte queste cose avere la stella polare dei valori che una rivolta deve servire di cui deve essere lo strumento e organizzarne per il possibile le élite il resto dipende dal caso in ambito scientifico si chiama la contingenza ma di questa contingenza ovviamente fa anche parte l'impegno di ciascuno di noi e soprattutto dei più giovani fra noi grazie grazie al professor d'Arcais per questa sua colta e particolarmente interessante relazione dalla regia mi dicono che abbiamo qualche minuto in più per il dibattito quindi chiunque di voi voglia organizzare qualche idea per poi presentarlo all'attenzione di Paul Floyd d'Arcais abbiamo tutto il tempo per farlo siccome ho ripreso il microfono come si fa in queste circostanze lo tengo per ancora qualche secondo e nel tentativo di rompere il ghiaccio comincio io un'interlocuzione con il professore in riferimento a una delle questioni che lui ha toccato nella seconda parte del suo intervento e su cui io lo chiamerei a una maggiore riflessione ossia al rapporto che è ovviamente particolarmente complesso e molto indagato nella letteratura storico politologica che riguarda appunto la rivolta e l'organizzazione lei nell'ultima parte del suo intervento ha richiamato in alcune circostanze in alcuni suoi passaggi questo rapporto ma io credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali i movimenti sociali diceva Francesco Alberoni nel 1977 scriveva un saggio particolarmente importante movimenti istituzioni definiva i movimenti sociali come dei fiumi carsici cioè dei fiumi che appaiono in alcuni momenti della storia secondo circostanze non sempre riproducibili come giustamente diceva lei e che però poi scompaiono hanno il grande vantaggio di poter rivoluzionare l'agenda politica di porre all'ordine del giorno all'ordine dell'attenzione determinati temi il 68 poneva quelli dell'antiautoritarismo dell'uguaglianza dei diritti civili che lei giustamente ha richiamato altri movimenti quelli di Indignados quelli di Occupy Wall Street ci metto anche i movimenti di Genova dei primi anni 2000 quello il famoso movimento dei movimenti antiglobalizzazione erano tutti movimenti che hanno avuto una grande visibilità nel corso della storia limitata ad una fase storia piuttosto breve e che però poi si sono come diceva giustamente hanno dissipato le proprie energie allora forse per canalizzare le energie sociali che compaiono in determinate circostanze dentro a movimenti è forse necessario un modello organizzativo il modello organizzativo nel primo del novecento è stato trovato era particolarmente efficace e rispondeva al nome di partiti politici oggi i partiti politici sono nelle condizioni che ben sappiamo ma un nuovo modello organizzativo forse è necessario ripensarlo chiudo con una battuta io studio Podemos più volte mi sono recato in Spagna conosco molto bene Juan Carlos Movedero che di Podemos è stato uno dei fondatori e l'attuale ideologo l'abbiamo invitato a Perugia l'ottobre scorso io ho trascorso due giorni con Movedero a parlare del modello organizzativo cioè il prossimo passaggio di Podemos sarà quello di darsi una forma organizzativa di trovare un modello organizzativo che gli possa permettere di proseguire la situazione nel medio e lungo periodo e alla fine accompagnandolo un po' per l'Umbria chiudo con questa battuta Movedero mi disse eravamo davanti alla basilica inferiore di Assisi mi disse guarda io ti ho detto tutto quello che so chiediamo a San Francesco se lui sa qualcosa in più del modello organizzativo da darci perché al momento siamo in work in progress però resta quello della forma organizzativa a mio avviso una delle questioni fondamentali su cui vorrei richiamare la sua attenzione ci ho detto mi taccio ancora una volta ci sono dei ragazze in sala che raccolgono domande del pubblico mi piacerebbe sperare e pensare che il problema è il modello organizzativo mi viene una domanda un po' provocatoria organizzare che cosa nel senso che un problema enorme che io vedo condivido l'analisi che è stata fatta della necessità di mantenere questo spirito critico allora per chi oggi come me lavora nella scuola mi interrogo molto e mi piacerebbe che questo fosse fatto la rivista del direttore lo fa spesso quali sono i dispositivi che il potere ha messo in atto per far sì che non ci sia spirito critico se noi pensiamo a quello che sta accadendo nella scuola a quello che le ultime riforme non parlo solamente dell'ultima ha messo in campo come omologazione se pensiamo alle competenze se pensiamo all'impossibilità anche di criticare un'alternanza scuola-lavoro qui abbiamo tanti ragazzi e ragazze che lo stanno facendo ma ricordiamo che chi ha osato criticarlo si è ritrovato peggio con la possibilità di abbassamento del voto di condotta eccetera quello che sta succedendo nella scuola ci interroga molto su quello che potrà essere nei prossimi anni la mancanza di spirito critico perché ovviamente quest'humus che in qualche maniera dobbiamo far crescere e rendere adeguato a un aumento dello spirito critico nella scuola trova ovviamente il bacino più interessante quello che sta accadendo nelle scuole per responsabilità anche della nostra generazione di adulti che ha avuto negli anni 70 forse non il 68 ma un po' dopo così tanta vicinanza ai movimenti in realtà adesso ci troviamo noi per primi come adulti a non voler più vedere le pericolosità enormi ecco io ho una riflessione su come possiamo coltivare questo spirito critico veramente anche destrutturando i dispositivi che sono stati messi in atto non so se vogliamo raccogliere ancora qualche altra domanda qualcuno in sala che ha curiosità o domande da rivolgere a Paolo Flores d'Arcais o altrimenti magari lasciamo che il professore faccia articoli di sue risposte e poi magari qualcun altro prenderà il coraggio per altre domande no qui qualche persona più giovane c'è mi piacerebbe che esprimesse cioè non c'è veramente da aver timore di niente io quando inizio nei dibattiti dico sempre incominciamo dal secondo intervento perché il primo però ora c'è stato citerei davvero che senza alcun timore nessuno fa brutta figura e poneste le domande perché non è possibile che non vi siano venute in mente domande obiezioni mi farebbe piacere sentirne alcune ma non con la forma ridicola di interrogare però vedo no ecco va bene si prepara qualcuno di più giovane nel frattempo per favore una volta per favore nella sua di il suo intervento è stato accennato diciamo all'aspetto politico del nostro paese io faccio una domanda molto molto semplice quanto il momento attuale e poi è un momento che dura da anni quanto può uccidere sulla mancanza di determinazione di possibilità di fare le cose di cui questo paese ha bisogno dipende dal fatto che ci sia una moltitudine di partiti che stanno stiamo guardando in questi giorni facciamo un paro un mese da ancora non si parla non c'è neanche l'idea di vedere questo di ora sarà possibile in futuro per garantire anche i nostri figli arrivare ad una diciamo in una situazione politica in cui due contendenti e non ufficiali di tante democrazie del mondo dove finisce le elezioni di loro sagravito di loro la sua città un governo che governa per il bene dei cittadini grazie non ne odiamo il professor d'Arcais no perché alcuni dei più giovani hanno sicuramente più di 18 anni quindi hanno votato quindi ragioneranno c'è un ragazzo sul fondo buonasera una curiosità volevo chiederle secondo lei che ruolo gioca come dire la dicotomia che a volte si trova tra quella che è la volontà popolare espressa tramite le elezioni e invece la credibilità della politica stessa magari attraverso la critica che si fa alla politica e alla classe dirigente che viene eletta alle elezioni magari dal potere giudiziario stesso e quindi penso ad esempio a quello che è successo con Mani Pulite che di fatto ha segnato la crisi in Italia dei grandi partiti di massa grazie altre domande cade l'occhio continuamente su una fila di giovani di cui vorrei assolutamente sentire l'opinione di una di quelle ragazze no? non potete farmi questo regalo? ecco ecco la sì noi siamo venuti insieme perché sicuramente siamo molto interessati a questo genere di discorsi dalla nostra parte abbiamo anche un'istruzione che ci ha avviato a una visione molto critica è molto attaccata al concetto stesso e al dibattito sul concetto stesso di democrazia però è anche vero che viviamo in una in una società che ci fa sentire un po' miseri e di fronte alla quale magari spesso ci sentiamo soli pochi bambini di fronte a delle esperienze storiche che vediamo invece grandissime e che vediamo però relegate alla storia completamente strane al presente quindi secondo lei forse la mia domanda è questa secondo lei come si può fare a far sentire noi giovani veramente padroni e protagonisti della rivolta che potrebbe essere fatta e che potrebbe magari partire da noi intanto diamo la parola al professor D'Arcais per le risposte e vediamo se ci sarà un altro giro di domande va bene vi ringrazio perché in realtà la seconda parte di dialogo è per chi fa introduce il dibattito la parte più interessante rivolta e organizzazione ovviamente gli strumenti di partito non funzionano più rispetto a quella che è oggi non la volontà popolare perché la volontà popolare non esiste esistono tante volontà diverse e in conflitto fra loro anche è come quando si dice il bene comune il bene comune ciascuno lo interpreta a modo proprio le nostre società sono società conflittuali la democrazia è conflitto ora però il modello dei partiti ha manifestato i suoi elementi critici e la sua tendenza a trasformarsi in partitocrazia non oggi un secolo fa l'anno prossimo sarà il centenario di una delle conferenze più importanti dello secolo scorso la conferenza che Max Weber tenne sulla politica come professione 1919 e vi sono pagine in questo classico che sembrano la descrizione della partitocrazia del già di vent'anni fa di trent'anni fa di quarant'anni fa che è proseguita fino ad ora in cui a un certo punto spiegava che i partiti erano diventati dei comitati per assegnare dei posti sostanzialmente e che tutto era lottizzato tutto fino alla carica di portalettere di postino cioè sembrano delle cose scritte oggi e che purtroppo valgono anche per domani allora nel frattempo sono stati escogitati dalla scienza politica nei confronti della quale io ho le stesse assolute perplessità che aveva Anna Arendt perché la politica non può essere una scienza la politica è semplicemente il fare l'agire attraverso principi volontà tentativi di razionalità ma non può essere analizzata come scienza come scienza si riescono a catalogare ciò che nella storia si ripete cioè la scienza politica questo lo spiegava benissimo Anna Arendt riesce a occuparsi della routine ma ciò che realmente è importante nella storia non è la routine è quando succede qualcosa di imprevisto e di impensato è da lì che nascono le grandi cose prima dell'89 fino al 1988 io ero molto legato ai movimenti di dissenso nei paesi dell'est ma questi movimenti di dissenso venivano considerati al massimo di persone coraggiose perché rischiavano tutti la galera e molti ci sono finiti per anni e anni e anni ma in sostanza degli illusi delle persone fuori dalla realtà poi si è visto che questi illusi avevano totalmente ragione e che quello che sembrava un sistema assolutamente granitico è si è afflosciato su se stesso in qualche mese e queste cose nessun politologo l'aveva immaginate ovviamente perché così come non saprà immaginare le conseguenze dopo l'89 ci si domanda gli altri paesi comunisti quando avranno la stessa sorte nessuno avrebbe immaginato che in Cina sarebbe successo ciò che è successo il partito comunista che contiene a mantenere il suo potere assolutamente totalitario come prima e perfino più di prima e nel frattempo il paese diventa il paese a capitalismo più selvaggio e senza regole che si sia mai visto al mondo e le due cose stanno insieme e nessuno scienziato della politica l'aveva immaginato perché lo scienziato della politica lavora sulle cose che si ripetono sulle frequenze ovviamente perché non si può lavorare cercando di imitare per il possibile il metodo scientifico che non sulle cose che si ripetono ma nella storia le cose che contano sono quelle che non si ripetono è ciò che improvvisamente accade senza un perché per cui in questo secolo da la conferenza di Max Weber a oggi sono stati escogitati tutti i sistemi possibili di organizzazione ma quelli che potranno funzionare saranno sicuramente diversi perché un modello organizzativo che poi non è un modello una forma organizzativa in quello specifico situazione nascerà attentoni infieri Podemos sta cercando che cosa potrà essere ma appunto non lo sa e quello che sapeva si è rivelato inadeguato non appena l'hanno semplicemente continuato a comportarsi coerentemente secondo il modello che avevano delineato nei loro statuti anche perché quando una forza un movimento una rivolta hanno successo accade costantemente questa sia una costante storica la carica degli opportunisti non appena c'è successo persone che mai si sarebbero impegnate in quel movimento in quelle lotte quando costava poco o tanto perché oggi per fortuna da noi in occidente impegnarsi davvero nelle lotte non costa la galera se non in casi eccezionali certamente costa minor successo nella professione minore cariche minore ambizioni nella scuola poi ci arriveremo sta costando molto di più e quindi questo è un indice di una democrazia fatta a pezzi ma su quello ci torno per cui ecco io penso che si debbano avere delle coordinate degli orientamenti ma poi la capacità di imparare costantemente quello che non può mai essere un modello ma è una realtà in fieri e organizzare che cosa diceva la signora che è un insegnante ovviamente appunto certamente con quello che sta accadendo contro la scuola in Italia da un quarto di secolo la democrazia italiana può solo avere la certezza di finire a pezzi molto peggio di già come sia ora perché i governi che si sono succeduti e con un'accelerazione costante perché ormai c'è un peggio del peggio del peggio a ogni nuovo ministro e anche qui semmai si trova una legge fondamentale della storia che al fondo non c'è mai che al peggio non c'è mai fine oltre la signora tal dei tali ora neanche ricordo il nome di quel ministro non si può andare no si può andare si è andati con Gelmini ora non mi ricordo chi è il ministro attuale ma è stato peggio e così via la scuola è stata smantellata è stata letteralmente smantellata la scuola è l'università i criteri la scuola ormai è organizzata secondo lo spirito di caserma perché il famoso preside imprenditore già l'idea di considerare che il preside deve essere un imprenditore significa avere come modello l'azienda ma l'azienda non è uno strumento attraverso cui si creano i cittadini democratici del domani perché la scuola non deve solo trasferire le nozioni accumulate da una generazione all'altra ovviamente deve fare anche questo se no saremo ancora all'età della pietra ma la scuola democratica quella nata in Francia l'école de la république nata in Francia durante la rivoluzione ha come obiettivo come compito di trasmettere il sapere da una generazione all'altra in modo che ci sia l'accrescimento continuo ma di formare i cittadini lo studente è un cittadino in formazione e quindi deve ora come può un modello azienda essere adeguato al cittadino in formazione è una contraddizione in sé e quando il modello azienda tende sempre più a quello che è l'autoritarismo aziendale e quindi allo spirito di caserma la scuola è già stata uccisa ma qualcosa di analogo anche se in forma più soft sta avvenendo con l'università i criteri con cui si stabiliscono le valutazioni con cui si stabiliscono le valutazioni per i concorsi sono qualcosa di allucinante che non hanno nulla a che fare col merito con lo spessore scientifico e la capacità didattica servono solo alla riproduzione al ribasso della mediocrità a una costante maggiore mediocrità di ogni generazione di docenti poi ci sono alcune eccezioni e forse ogni tanto vale quella famosa legge di Peter per cui a forza di cooptare persone peggiori di sé poi alla fine qualcuno non riesce a cooptare qualcuno di peggiore quindi viene fuori qualche cosa che rinnova ma sembra che mentre si parla costantemente di una cosa che sanno tutti che il sapere la ricerca e l'educazione sono ormai un bene industriale e finanziario primario dal punto di vista della società perché attraverso questi strumenti che nasce la ricchezza sociale mentre si dice questo in tutte le conferenze in tutti i talk show eccetera in tutte in tutte le conferenze di partito le Leopolde poi si fa esattamente il contrario e ci sono ricercatori che in Italia non riescono a vincere un concorso di ricercatore e che all'estero trovano dei budget milionari o miliardari per delle ricerche che sono da premio Nobel ma in Italia avrebbero dovuto fare tutto l'estenuante percorso di leccare gli stivali al barone fino ad avere alla fine per benevolenza una una carica una cattedra un insegnamento attraverso quello che si chiamano le cordate perché l'università italiana funziona per cordate non per meriti per cui che c'è da dire c'è da dire solo che speriamo che insognanti e studenti trovino la forza di a un certo punto di dire no siano talmente si trovino in una situazione di disagio talmente grande per cui non avendo più nulla da perdere si scatenino che cos'altro si può dire perché veramente sembra che ci sia una volontà di umiliare e trattare male in ogni modo i docenti in questo paese che non ha non solo ovviamente non ha uguali in Europa ma non ha avuto nemmeno mai uguali in un paese che pure la pubblica istruzione non l'ha mai messa tra gli obiettivi fondamentali ora qualcuno auspicava due partiti io non credo affatto che la democrazia bipartitica sia la forma migliore di democrazia è una forma che ingessa e che si realizza in paesi che non a caso negli Stati Uniti dove non si sa perché non si studia la storia politica degli Stati Uniti che il bipolarismo il bipartitismo intanto è quella forma per cui sotto il nome di un partito questo partito evolve nei modi più diversi oggi il partito repubblicano è il partito che sappiamo in America il partito con cui è stato eletto Trump ma il partito repubblicano era il partito di Abramo Lincoln ora voi riuscite a vedere una qualche forma anche labilissima di continuità ma tutta la storia degli Stati Uniti fino in pratica al dopoguerra ci sono stati anche un paio di episodi minori nel dopoguerra è stata una storia in cui costantemente tendeva a nascere un terzo partito e il meccanismo che ha che impedisce la nascita di un terzo partito il meccanismo di un voto che è antidemocratico perché per il Senato perché in realtà sia per il Senato che per la Camera ci sono le circoscrizioni e perfino per la Presidenza basta vincere in alcuni stati marginali e chi ha avuto più voti non viene eletto i meccanismi americani sono pieni di incongruenze ma sono molto più che incongruenze democratiche ma questo sistema unito al fatto di repressioni feroci che ci sono state in tutto il novecento e già nella seconda parte dell'ottocento contro le organizzazioni sindacali hanno fatto sì che la stessa idea di socialismo fosse diventata un tabù assoluto negli Stati Uniti un tabù tale per cui anche chi ne condivideva gli ideali inconsapevolmente non riusciva neanche a saperlo tranne quella figura unica che è stata il senatore Sanders che da 40 anni credo vince il seggio in Senato in una piccolissima in un piccolissimo Stato e si è visto che senza molte manovre e molte manipolazioni sarebbe stato il candidato del Partito Democratico e avrebbe vinto contro Trump perché questo dicevano tutti i sondaggi ecco per capire come l'ideale bipartitico è tutt'altro che l'ideale democratico non esiste un ideale democratico esistono tante forme alcune più contraddittorie di altre alcune meno alcune più antidemocratiche di altre ma questa idea che il massimo della democrazia sarebbe che la sera delle elezioni sappiamo chi ci governa è un momento se per sapere chi mi governa la sera delle elezioni la volontà popolare che è articolata e conflittuale deve essere ingabbiata e ridotta in modo che poi la sera si sa chi ci governa ma chi ci governa non è l'espressione dell'autentica volontà popolare e io preferisco mesi e mesi di consultazioni di polemiche di trattative perché alla fin fine il sistema proporzionale tedesco con delle sue correzioni e col voto disgiunto che in Italia non si è voluto da modo di avere governi stabili e non in conflitto o meno in conflitto con la volontà popolare di altri benché per arrivare a un governo ci si metta mesi di trattative e di consultazioni tornando poi alla consultazione delle basi dei partiti che devono firmare quegli accordi c'è stato un accenno che io non ho capito al potere giudiziario se c'è qualcosa che in Italia è stato dalla parte dei cittadini fino almeno a dieci anni fa è stato una parte consistente del potere giudiziario per fortuna che in Italia abbiamo avuto mani pulite e i magistrati di Palermo e dei pull antimafia senza di loro quella l'Italia che oggi è una mortagora dal punto di vista politico lo sarebbe stato per tutti questi decenni il potere giudiziario dovrebbe essere il potere dei senza potere il potere della parte dei cittadini il potere che obbedisce solo alla legge purtroppo troppe volte è il potere che obbedisce agli altri poteri e quello che nelle scuole è stato fatto in un modo sfacciato e invercondo per cui i singoli insegnanti non solo non hanno più autonomia ma non hanno nemmeno più la libertà di dire che la vorrebbero questa autonomia in forma più soft si è tentato di fare per normalizzare le procure e ci si sta riuscendo sempre di più purtroppo infine la studentessa che ringrazio ha espresso quello che è lo stato d'animo di uno studente oggi in una scuola che mi sembra di capire a suo modo privilegiata dal punto di vista della coscienza di cittadini perché almeno che cosa vuol dire essere cittadini e democrazia mi sembra di capire che con alcuni insegnanti della vostra scuola se ne discute e quindi se ne discute anche fra voi e questo dovrebbe essere però l'obbligo di ogni insegnante non solo dell'insegnante di educazione civica materia che non so neanche più se venga insegnata ma che comunque quando io andavo a scuola veniva trattata un po' peggio dell'ora di religione mentre ovviamente dovrebbe essere la materia fondamentale cioè la materia che circola nelle ore di tutte le materie ora ha detto molto bene si sentono soli pochi e bambini sperduti isolati che è però guardate non per consolarvi che è la sensazione che hanno tutte le persone che poi partecipano a varie forme di manifestazioni assemblee presentazioni di libri in cui si scopre in Italia una quantità tante persone che hanno voglia di partecipare in modo serio alla vita culturale e sociale e politica e alla fine di ogni volta che a me capita di fare un dibattito una conferenza ci sono persone che alla fine mi dicono sì lei ci incoraggia a fare ma tanto noi qui siamo soli non siamo collegati con nessuno non c'è nessun altro e questi soli nessun altro eccetera però io li ritrovo in ogni città dove vado in ogni quartiere dove vado in ogni scuola dove vado cioè sono tutti con la sensazione di essere isolati ma sono tantissimi in realtà e allora è inutile aspettare che venga dall'alto qualche cosa ci si può intanto auto-organizzare per piccole cose per il piacere di organizzare gruppi di discussioni in cui discutere cose che stanno a cuore ma non solo cose accademiche le cose che stanno a cuore che hanno a che fare con la vita civile sono tante tantissime per fare delle cose insieme ci sono tante forme di volontariato che si possono fare ovviamente bisognerebbe ma non lo fa non le istituzioni dare incoraggiare questi spazi di attività in comune vita in comune discussione in comune io conosco tante persone che non giovani dai 40 anni in su che disperate ormai di non poter fare più politica perché con gli strumenti oggi a disposizione politica non si può fare si sono organizzati in gruppi di letture cioè ogni due settimane a turno si riuniscono in una casa leggono in genere un romanzo un classico un saggio importante e lo discutono sanno benissimo che è un palliativo rispetto alla volontà di partecipazione più piena che vorrebbero ma non si rassegnano che siccome non ci sono più i luoghi dell'impegno politico vero che sarebbe un diritto di ogni cittadino non ci sono non si rassegnano semplicemente a darsi al giardinaggio o alla cucina che sono altrettanto cose altrettanto appaganti ma non possono essere le uniche però il moltiplicarsi delle scuole di cucina guardate nasce anche da questo perché se altre forme appaganti non ci sono ma io stesso tante volte ho avuto questa tentazione insomma invece di basta mi iscrivo a una scuola di cucina e voglio siccome mi piace cucinare per gli amici e così sarò a un livello ecco cerchiamo di darci questo slancio anche nelle altre cose che sono di impegno politico e culturale che ciascuno può realizzare con un gruppo di amici anche perché io sono incapace di utilizzare internet ma voi siete nascete così con la capacità di utilizzare internet e quindi se vi organizzate un piccolo gruppo in cui fate delle cose poi sapete il modo di entrare in contatto con analoghi gruppi non nella vostra città o in tutta Italia ma in tutto il mondo ringrazio ringraziamo il professor d'Arcais e grazie a tutti voi per la partecipazione grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.